Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Brawl Stars, la nostra serie delle 7 signori miei. L'altra volta abbiamo fatto assalto a Super City, è stata molto carina, abbiamo fatto una vittoria con il Super Saiyan Shelly e una sconfitta con il Little Tony signori miei. Però, prima di partire col video di oggi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che si rende a questa serie. Vi ricordo di iscrivervi sui social e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni, potete fare tutto quanto con il link che trovate in descrizione. Detto questo, partiamo con il video. Ok raga, allora, l'assalto a Super City l'abbiamo fatto l'altra volta, io questa volta tornerei a fare una ferragemme, almeno vediamo di portarci a casa anche qualche coppa e voglio andare a farmela con il nostro Torero Camomillo, signori miei. Dai così, così vediamo se far crescere anche un po' colui, dai Torero, dai Torero, sorprendimi, sorprendimi Torero, dai Torero, sorprendimi, così vediamo di fare tanti teschi, tante coppe e vediamo di ottenere, vediamo se riusciamo a ottenere qualche nuovo brawler praticamente, perché per ora siamo un attimino fermi alle nostre... dove sei, bastardo, sei lì, ho visto, tu e l'orso gli oghi pure. Dai, 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 fallo fuori, fallo fuori prima che puoi invocare l'orso gli oghi. Fatelo fuori, porca di una miseria, ok, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, dobbiamo fare tantissimi danni, signori miei, qua c'è qualcuno che vuole morire male, c'è un Super Saiyan nascosto che tra un poco morirà, è morto, sì, è morto, ai, 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 c'è qualcuno che mi sta sparando, l'orso gli oghi, mannaggia lui, abbiamo perso un sacco di gemme raga, abbiamo perso un sacco di gemme, però rientriamo subito in partita. Siamo 3 a 1, questa cosa non va per niente bene, 4 gemma 1, 4 gemma 1, questa cosa non va per niente bene, è arrivato anche l'orso gli oghi, no, 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 scappa dall'orso gli oghi, scappa dall'orso gli oghi, e levati l'orso gli oghi, maledetto. Ok, abbiamo puntato, abbiamo puntato dal piccolo orso gli oghi, dai, dai, uccidilo, 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 che è lì dietro che si sta, è lì, è lì, è qui, è qui, è qui, mannaggia te, ok, 4 gemma 3, vado a recuperare quelle due e siamo 5 a 3, e siamo 6 a 3, bella così, dai, è così. Dobbiamo trovare chi è che ha quelle quattro gemme, chi è che ha quelle quattro gemme, conto alla rovescia per noi, grandi, 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 conto alla rovescia per noi, conto alla rovescia per noi, conto alla rovescia per noi, dai, 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 così, dai, così, ma noi abbiamo un super colpo, dai, così, attaccali tutti, uccidi quel pocio, è finita la partita, no, è morto il nostro compagno, mannaggia, siamo morti tutti, no, 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 non ci posso credere, non ci posso credere, ci hanno fregato tutte le gemme, raga. Ci hanno fregato tutte le gemme e sono andate incontro alla rovescia, non ci posso credere, non ci posso, ditemi che non è vero, ditemi che non è vero, ditemi che non è vero, no, 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 sei. Ammazza quella sceglia, ammazza quella sceglia Che è importantissimo uccidere quella sceglia No, abbiamo perso, non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso credere, raga Non ci posso credere Che brutta figura che abbiamo fatto Che brutta figura che abbiamo fatto Che brutta figura Mannaggia, è una miseria Rifacciamoci subito, raga, rifacciamoci subito Non c'ho voglia di un video del genere Rifacciamoci subito, scendiamo di un momento subito in campo Dai così Mamma mia che brutta figura che abbiamo fatto signori Non me l'aspettavo proprio Non me l'aspettavo proprio Ora siamo con Un ubriacone e un little Tony Vediamo se riusciamo ad andare meglio Me lo ricordavo meglio il nostro camomillo Il nostro torero camomillo Me lo ricordavo meglio, sinceramente Invece è proprio messo male Me lo ricordavo meglio Riesci a ammazzarlo, dai, non è difficile Oh, perfetto, siamo riusciti ad ammazzarne uno Quanto meno Ok L'ubriacone sta lanciando Lancia le bottiglie E si sta fregando tutte le gemme Bravo, ubriacone Abbiamo un attimo problemi di linea Abbiamo un attimo problemi di linea Vediamo se tutto va bene C'è un po' di Un po' di lag terribile Perché abbiamo dei problemi di linea Però non ci sto capendo più niente, raga Problemi di linea terribili Siamo morti Però abbiamo quattro gemme Quattro gemme No, le abbiamo perse tutte Ottimo, le abbiamo perse tutte In un colpo solo Grandissimi Allora, il Il remistire non ci interessa Dobbiamo trovare chi è che ha le quattro gemme Della squadra avversaria E io l'ho visto Chi è che ha le quattro gemme Della squadra avversaria Te devi levare Te devi levare Non mi interessa combattere contro di te Te devi levare Allora Allora, c'è lui che vuole morire male Ok Il wrestler l'abbiamo ammazzato Siamo cinque gemme a quattro Questa la ciappo io Questa la ciappi tu Uccidi, 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 uccidi Ok, l'acido è il nostro amico L'acido è il nostro amico Perché gioca con noi Il tizio che lancia l'acido Dagli, dai Così, grande Tu devi morire male Perché hai troppe gemme Che vogliamo noi Bello, così Uccidi, uccidi, uccidi Uccidi, uccidi Porca miseria Conta la rovescia per la squadra rossa Come conta la rovescia per la squadra rossa Raga Stavamo in vantaggio noi Stavamo in vantaggio noi Porca di una miseria Come conta la rovescia per la squadra rossa Sono là Sono là Dovete uccidere loro 3, 2, 1 E' finito Non ci posso credere Non ci posso credere Mamma mia Mamma mia Che brutte partite oggi raga Mamma mia Che brutte partite Niente E' andato proprio male Il nostro torero camomilla E' andato proprio male Sconvinciti 18 amici Nella ferra gemme Ma dai Ma che premio è Considendo che abbiamo perso completamente Due partite su due Ragazzuoli Facciamo una cosa Concludiamo questo video E' Facendoci un'ultima partita Veloce veloce Facciamoci una partita a calcio Signori Una partita a calcio Così raggiungiamo il pass Diciamo E vediamo di cosa c'è dentro la cassa Signori Non ci sto a chiudere il video Con le sconfitte Non ci sto a chiudere il video Con le sconfitte Non mi sta proprio E' genio Non mi sta proprio E' genio La cosa di questo genere Concludere il video Con le sconfitte Ecco appunto Partiamo malissimo Partiamo malissimo Perché mi sono concentrato Su uccidere i nemici L'obiettivo è segnare In questo In questo In questo gioco L'obiettivo Ecco Perfetto Siamo già sotto 1 a 0 Siamo già sotto 1 a 0 Dai 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 Recuperiamo subito il pallone Recuperiamo subito il pallone Recuperiamo subito il pallone Dov'è sta il pallone Dammi sta pallone Dammi sta No no Ha fatto uscire l'orso Yogi Recupero il pallone Recupero il pallone Grande 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 Dai così Dai così Sulla fascia Sulla fascia Veloce Siamo liberi Siamo liberi Sulla fascia Dai 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 Mamma mia Come tira questa E dai Pareggiamo 1 a 1 Pareggio Pareggio Del nostro torero camomillo 1 a 1 Ok Fagli ammazzare Fagli ammazzare Fagli ammazzare Tutti quanti Fagli ammazzare Tutti quanti Andiamo a regolare il pallone Andiamo a regolare il pallone Andiamo a regolare il pallone Chi ce l'ha il pallone Io Io Ce l'ho io Ce l'ho io Via 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 Recupera Recupera Grande Così Dai 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 No 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 Grande Abbiamo girato l'orso Abbiamo girato l'orso Recupera un po' di vita Recupera un po' di vita No Siamo morti Vicinissimi All'ora di rigore, mannaggia di una miseria Mannaggia di una miseria Dai, 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 non ci sto a perdere Non ci sto a perdere, magari una partita Dobbiamo vincerla, raga, magari una partita Dobbiamo vincerla, no, no Mi ha dripplato come, non ci posso credere Non ci posso credere Mamma mia, tre sconfitte su tre Raga, è andata proprio male oggi Oggi è andata proprio male Porca miseria Oggi è andata proprio male Dieci teschi per noi Ci bastano per raggiungere il prossimo pass Livello 13 Signori miei, ma lo apriremo nel prossimo video Vi lascio così in sospeso, col dubbio Cosa ci sarà nella prossima cassa Che andremo a aprire nel prossimo video Sarà una cassa brawler, quindi una cosa piccolina Non ci troveremo niente di particolare Però, signori miei, detto questo Vi ringrazio di aver guardato questo video Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti Il nostro torero camomilo mi ha deluso pesantemente E niente, ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga, ciao Ciao Ciao